Studio 7 TV Si è svolta venerdì 31 marzo presso l'auditorium dell'Accademia della Musica Andrea Bocelli Foundation, Franco Corelli in Camerino, la conferenza stampa durante la quale sono state presentate la masterclass di scrittura creativa dedicata a giovani cantautori emergenti italiani guidata da Giovanni Caccamo insieme al programma del Camerino Festival 2023. La parte culturale di Camerino della città ducale sta sempre un fiorellocchiello di questa città, di questo territorio, oggi si va a crescere grazie anche a questa collaborazione con la fondazione Bocelli che nasce appunto con la realizzazione di questa struttura ma che fondamentalmente, come diceva il direttore della fondazione, la dottoressa Biancalani, continua nel far vivere questi territori, queste strutture e dando opportunità di livello internazionale e nazionale. Oggi presentiamo la masterclass dell'artista Giovanni Caccamo, abbiamo presentato il nuovo sito della scuola di musica, quindi di questa struttura, un sito nuovo con un'immagine tutta nuova che potrà mettere a disposizione sia i servizi, quindi prenotare i servizi della scuola, prenotare gli spazi ma soprattutto far conoscere quelle che sono le attività che verranno svolte nei prossimi mesi. Per la città si appresta un calendario primaverile, estivo e importante appunto legato a quelli che sono gli eventi culturali, legato a quello che è il Camerino Festival, legato alla Corsa alla Spada, quindi ci saranno mesi importanti da maggio fino ad arrivare quindi a fine estate con una serie di appuntamenti dove invitiamo tutti quanti a partecipare e a seguire anche sul sito sia della Fondazione che del Comune i vari appuntamenti che l'amministrazione insieme alle tante associazioni che ringrazio e continuerò sempre a ringraziare riescono a organizzare nella città di Camerino. Parliamo di una vetrina di livello veramente nazionale e strano dando opportunità a questi territori che mai è stata data. Pochi mesi fa eravamo a Firenze a presentare anche questo progetto in una vetrina splendida dal punto di vista architettonico ma importantissima dal punto di vista veramente della visione nazionale e quindi per questo Laura ti ringrazio veramente perché facciamo ritornare Camerino a quegli spettori di livello nazionale che ha avuto sempre che si è un attimino stoppata a causa del sistema in 2016. Con la dottoressa Bianca Lani, direttrice della Fondazione Andrea Bocelli, una giornata particolare qui a Camerino, la Fondazione presente che con la musica crea dei ponti. Ci proviamo a creare dei ponti, proviamo soprattutto a essere a servizio di queste comunità, queste comunità che hanno dimostrato con grande voglia, volontà, coraggio di voler ripartire e di voler valorizzare la propria storia però con una grande visione di futuro e noi siamo qui a aiutare a creare appunto questo ponte, questa visione di futuro, renderla concreta attraverso questa struttura in primo luogo e attraverso una serie di iniziative che abbiamo creato appunto insieme alle associazioni del territorio, al comune e che daranno vita a delle vere e proprie masterclass di scrittura creativa, musica da camera, musica lirica, di ragazzi che verranno da tutto il mondo, arriveranno qua a Camerino per lavorare sul proprio talento e lavorare su se stessi e anche portare le proprie storie e quindi io credo che sia un bellissimo modo di costruire ponti verso una visione di futuro, quello di aprirsi, quello di aprirsi e portare se stessi e ricevere da fuori e il talento e l'arte sicuramente sarà un veicolo veramente importante per mettere basi solidi a questo ponte. Il suo impegno, non solo quello della fondazione, l'ha portata parlando di ponti a varcare anche i confini, ha accennato nella conferenza, ha parlato della Palestina, non a caso, un altro impegno che l'ha tenuta appunto impegnata. Allora, sì, come fondazione noi lavoriamo molto anche all'estero e in paesi in particolare in via di sviluppo. Ho parlato di Palestina perché durante appunto un sopralluogo per altri progetti della fondazione teniamo sempre le orecchie attente e accese perché come sapete anche nelle scuole portiamo il linguaggio della musica, il linguaggio dell'arte e in questi sopralluoghi in Palestina abbiamo conosciuto persone e scuole di musica veramente eccellenti con una voglia di uscire da quelli che sono i muri entro i quali molti di loro sono costretti a vivere. E lì appunto abbiamo trovato un baritono, Tarek, che sarà qui con noi a Camerino e sarà uno dei ragazzi che vengono dall'estero che porterà la propria storia, il proprio vissuto. Come vi raccontavo, per studiare lui ha passato i muri tutte le settimane, ha chiesto permessi a Israele per poter andare a Gerusalemme a studiare e in questo momento sta cercando una specializzazione e anche un lavoro vero con la musica che a casa sua non può avere. E quindi cercheremo di fare questo, di portare la sua storia e poi da lì il lavoro per lui e per tutti gli altri che verranno qua a Camerino. Il servizio della comunità è insieme sempre all'amministrazione, insieme all'associazione del territorio. Siamo sulla buona strada, in questo momento la scuola ha 270 iscritti e quindi vive di vita propria e di persone del territorio e vorremmo invece far arrivare persone che portino, anzi che prendano dal Camerino e che portino invece movimento, che facciano muovere la comunità, che portino lavoro, che portino anche una vocazione internazionale che è una vocazione che il territorio è capace di incogliere. Una giornata altamente culturale e quale migliore occasione per parlare anche di altri eventi culturali che interesseranno il comune di Camerino e lo facciamo con l'assessore appunto della cultura e servizi sociali, Antonella Nalli. Una bella giornata, ma tante giornate stanno per iniziare per far parlare di Camerino al mondo. Sì, effettivamente oggi ci è stato presentato una piccola anteprima di quello che sarà il Camerino Festival che è raggiunto alla 37esima edizione di una rassegna internazionale di musica, musica che abbraccia a tutti i livelli, dal pop al rock, quest'anno abbiamo sentito anche musica geltica, musica classica. Ovviamente Camerino, come diceva prima la dottoressa Biancalani, cercando di far venire a Camerino persone da tutto il mondo. È quello che un po' tutti noi ci auspichiamo, non solo per Camerino ma per l'intero territorio. A livello culturale purtroppo abbiamo anche poche strutture capaci di poter comunque eseguitare a fare cultura a Camerino. Questa possiamo dire che grazie al buon cuore della famiglia Bocelli e a tutti coloro che comunque seguitano quotidianamente a lavorarci dietro e dentro a questa struttura, sicuramente è un grande punto di riferimento per quello che riguarda la cultura non solo del nostro comune ma torno a ribadire del territorio. Verrà riaperto in occasione anche della Corsa alla Spada che è un altro evento importantissimo anche che a maggio ospiterà Camerino con la speranza poi che anche molte persone da fuori vengono a questa manifestazione storica. Verrà riaperto anche il nostro museo Venanzina Pennesi che ospita seppur in maniera molto limitata però comunque ospita delle opere riportate, risistemate, rispolverate diciamo così dalle nostre chiese e che comunque è visitabile ogni fine settimana fino e si concluderà ad ottobre con le giornate del Touring Club. Purtroppo il nostro teatro è ancora nella situazione iniziale diciamo è stato solo messo in sicurezza. Stiamo lavorando, è inutile dirvi che sicuramente non torneremo domani nel nostro teatro ma non possiamo neanche permetterci di fermare a fare cultura. La musica è un volano importante per Camerino e non solo e questa scuola ne è la dimostrazione. Vi invito tutti ovviamente a partecipare anche alla rassegna internazionale del Camerino Festival che inizierà il 10 luglio e si concluderà il 14 agosto con molti artisti anche di fama internazionale. Tutti i giorni vengono a fare visita qui e ci sono dei ragazzi, dei ragazzi che vengono ad imparare qui perché ci sono dei docenti validissimi. Ogni fine settimana ci sono anche dei masterclass, ci sono dei gruppi di ragazzi che comunque vengono da fuori. Grazie, grazie per non averci fatto perdere mai per un secondo la speranza. Grazie veramente di voi. Io sono assessore alla cultura ma anche assessore ai servizi sociali e vi dico che è importantissimo anche se poi magari qualche volta, io lo dico anche con Martino, con Daniele che con la partecipazione non è massima, però comunque sia vedere anche un po' di persone e aiutarli ad uscire di casa è importantissimo. Grazie proprio anche a livello sociale che non è da sottovalutare nei nostri territori perché anche il tessuto sociale è veramente a terra. Quindi grazie per qualsiasi cosa, oltre all'enorme opera strutturale che avete fatto, ma per darci la possibilità di tornare a vivere. Grazie veramente di voi. Strettissima collaborazione della BF, non solo col territorio ma ovviamente con le sue associazioni, in particolar modo quella di Adesso Musica e con noi la segretaria Martina Casadidio. una sinergia ormai consolidata che si va ampliando sempre di più con tanti tanti eventi. Sì, si uniscono, si fondono le nostre realtà, la BF con Adesso Musica, quindi l'Istituto Musicale Nelio Biondi che è un istituto che ha ad oggi 260 iscritti circa, sono ragazzi di tutte le età, anche adulti che frequentano la nostra scuola. La sinergia tra la nostra associazione e ABF porta a progetti sempre nuovi, alla condivisione dei progetti esistenti che la nostra scuola ha sempre avuto, quindi dai campus estivi, dall'attività didattica nel periodo scolastico, ha le master di alto perfezionamento che ABF condivide con noi, a cui i nostri ragazzi possono partecipare, quindi i ragazzi sia da tutte le parti d'Italia che ci sono anche ragazzi allievi nella nostra scuola che partecipano. E parliamo a questo punto del Camerino Festival, ormai giunto alla sua 37esima edizione, un riferimento, un punto storico non solo per il territorio. Sì, il Camerino Festival, la 37esima edizione, inizierà il 9 luglio, terminerà il 14 di agosto, prevede la direzione artistica condivisa tra Musicando, la gioventù musicale, adesso musica, e da quest'anno il progetto formativo che entra a far parte del Camerino Festival è in tandem, adesso musica, con ABF. Quindi le master di alto perfezionamento, quella di canto lirico e quella di musica da camera, entrano nel cartellone del Camerino Festival insieme ai campus storici della nostra scuola, che sono il tutto musica e quella dei sassofoni, con le loro esibizioni finali. Oltretutto entrano nel cartellone del Camerino Festival, che viene appunto ampliato di un progetto formativo che ha lo scopo di coinvolgere i ragazzi del territorio e di tutta Italia in questo festival di musica internazionale che prevede la fusione di più generi musicali e anche la partecipazione di artisti di fama internazionale. Ospite d'eccezione per questa giornata, un grande artista, ma soprattutto un grande amante della musica e tanti progetti per i giovani, Giovanni Caccamo. Benvenuto a Camerino Giovanni, abbiamo avuto il piacere di ascoltarti cantare, abbiamo visto un video, abbiamo visto una parte di te, ma il repertorio è vastissimo. Ciao, buongiorno, sono felice di essere qua per dare il via a questa masterclass in cui incontrerò ragazzi, talenti da ogni parte d'Italia che si interfacceranno, si confronteranno con me un po' sul mondo della musica, della discografia. Da un anno circa, dopo la pubblicazione del mio ultimo disco Parola, ho deciso di dedicare un po' del mio tempo ai giovani perché penso ci sia un grande bisogno di incontrarsi, incontrarsi in carne ed ossa, incontrarsi in modo analogico, fuori dal virtuale e parlare, confrontarsi, riflettere sul futuro, su come i giovani possano essere motore di un cambiamento. Parola ai giovani, questo progetto che da un anno sto curando con amore avrà un frutto speciale che sarà un volume, un libro che uscirà a maggio con tre cani, con tante sorprese che svelerò nelle prossime settimane e oggi sicuramente queste giornate qui a Camerino saranno parte di questo cammino. Fidati del vento, siamo vele in movimento, anime presenti, spazi senza tempo, nuvole nell'aria, respiri, passaggi. Culle di speranza, fra timori e pentimento, flussi di coscienza, fiori nel cemento, la libertà di scegliere il silenzio ci salva. Dai luoghi comuni, dalle scuse, dalla sete, dalla povertà, delle illusioni e dalle offese hai sentito quanta fame c'è nell'aria di un cambiamento. Dove siamo rimasti, cosa abbiamo perduto, nella fretta del tempo, nel potere del nulla, il valore di un pianto, il respiro profondo, delle piccole cose. Non saremo distanti dai bisogni del mondo, perché nessuno si salva da solo. È il momento di trovare un equilibrio, di affrontare con coraggio il cambiamento la mattina dopo. Compi le tue scelte, senza dubitare, vivi nel tuo corpo, ruga dopo ruga, la bellezza si trasforma, ma tu non ti condannare alle apparenze, perché siamo portatori di un messaggio, perché in fondo siamo solo di passaggio. Hai sentito che calore c'è nell'aria e il cambiamento. Dove siamo rimasti, cosa abbiamo perduto, nella fretta del tempo, nel potere del nulla, il valore di un pianto, il respiro profondo, delle piccole cose. Non saremo distanti dai bisogni del mondo, perché nessuno si salva da solo. È il momento di trovare un equilibrio, di affrontare con coraggio il cambiamento la mattina dopo. 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 Saranno parte di questo cammino che ti vede proprio ormai un camerte doc. Abbiamo visto il video Il Cambiamento e sicuramente è un video che ha catturato l'attenzione ma in primis immagino la tua che hai vissuto a Camerino per quella che è attualmente. Sì, colpisce molto questo silenzio, a me ha colpito molto quella prima visita, quel silenzio assordante, quella sospensione. Che ti porta anche a riflettere sul fatto che spesso abbiamo tanti doni che diamo per scontato. Un po' anche la pandemia è stata così. Ha spento uno di quei pulsanti verdi che non abbiamo mai considerato che è la libertà e ci siamo immediatamente trovati chiusi in casa a desiderare delle cose che prima erano scontate. Anche il terremoto, il sisma sicuramente ha sottratto a migliaia di persone la casa che è il nostro luogo d'identità. E quindi forse dovremmo riflettere in tutte le situazioni della vita in cui ci troviamo sulla nostra fortuna, su tutto ciò per cui effettivamente vale la pena ringraziare più che lamentarci di ciò che non funziona. E quindi questo è uno dei doni che ho ricevuto da quella passeggiata a Camerino. Mi vorrei soffermare ancora sul cambiamento perché ho notato personalmente un qualcosa di battiato in quella canzone e non a caso ne sai qualcosa. Sì, sì, ma battiato è sicuramente stato il mio maestro ed è tuttora il mio maestro. Aver trascorso dieci anni con lui, essermi nutrito in qualche modo delle sue parole, dei suoi silenzi, dei suoi insegnamenti è stato un dono straordinario che la vita mi ha fatto. Quindi immagino, ipotizzo che sicuramente nella mia musica ci sia parte della sua armonia come è naturale che sia. Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene davanti. Sento che in questo momento è un dono straordinario che è un dono straordinario che è un dono straordinario. Sento che in questo momento è un dono straordinario che è un dono straordinario che è un dono straordinario. Grazie Grazie